L'Italia batte 4-1 Israele, una partita che per tanti motivi non avrei mai giocato, lo sapete, io non voglio tornare sull'argomento, chi mi segue su Instagram lo sa, andiamo a parlare di una partita appunto di Nations League finita 4-1, un'Italia che ha giocato anche molto bene, è vero il valore dell'iversario è quello che è, però purtroppo subiamo ennesimamente gol, come nelle ultime 8 partite purtroppo è sempre successo, andiamo con ordine, scendiamo in campo con Vicari di Lorenzo Calafiori, Bastoni, Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Di Marco, Raspadori e Reteghi anche oggi titolare, tra l'altro Reteghi giocherà più di 83-84 minuti, quindi da buon Atalantino insomma gioca un po' troppo, il ragazzo però è imprescindibile per questa nazionale perché è un Reteghi che segna anche oggi gol, il nazionale si è vero su rigore, però tant'è anche oggi ha giocato secondo me bene, ha sbagliato anche qualcosina, ma ha fatto bene. Da segnalare i tre cambi rispetto alla partita col Belgio, ho portato in post partita anche di quella partita, vi invito a venirlo a vedere, dai almeno altre 100 view anche a quel video lì, lo lascerò qua nella scheda finale, vi aspetto, mi raccomando, anche like, commenti, anche quella partita lì, Ripeto, Ricci in panchina, giocatore secondo me imprescindibile per questa nazionale, Vicario titolare opposto da Donnarumma, Raspadori anch'esso titolare e Fagioli per Pellegrini, è squalificato questi tre cambi rispetto alla partita con il Belgio. Fagioli che in sette minuti perde due palloni abbastanza velenosi, di cui il secondo che crea proprio un pericolo per noi con Gluck che la palla per fortuna la spara fuori. Per nostra fortuna, veramente, Fagioli peggiore in campo del primo tempo, sicuramente, ho sbagliato, tre palloni sicuro li ha persi, ma in partita non mi è piaciuto il ragazzo. Buona occasione per Retteghi al quattordicesimo, Glaser è bravo a chiudegli lo specchio, Glaser che si ripeterà dopo con Calafiori due minuti dopo, è ancora Glaser con Retteghi che praticamente iniziano il loro duello personale al diciottesimo ancora in angolo. È un buon portiere questo Glaser, ha fatto degli ottimi interventi, si è contraddistinto, poi sbaglierà anche qualcosa, vi racconterò tra poco cosa che regalerà appunto un gol a noi. Insiste l'Italia in avanti nel primo tempo con Tonali che è ancora Glaser protagonista che tra l'altro parerà praticamente di stomaco, di ventre, infatti rimarrà a terra abbastanza dolorante per la botta di Tonali appunto che ha ricevuto il pallone nello stomaco. L'Italia che comunque mi è piaciuta, mi è piaciuta bene perché ha giocato bene, soprattutto quando gioca di prima, anche gli scambi nazionali che gioca veramente bene quando ne ha voglia. Da segnalare comunque tre palle perse da Fagioli in 45 minuti giocati, ecco quello peggiore in campo di Italia sicuramente. Retteghi che dà Di Marco, che dà in mezzo, non arriva fra tesi in scivolata, arriva Retteghi però che spara fuori dall'esterno della rete. Quindi azione partita da Retteghi che appunto ha dato Di Marco per poi finire ancora Retteghi però spara fuori. Quindi un Retteghi che si rende protagonista anche di assist e comunque giocate in avanti oltre al gol. Poi c'è un'occasione per Israela ancora con Gluck che spara alto. Poi c'è un pestone di Perez a Tonali e rigore per noi al quarantesimo. Allora questo è un rigore che si dà e non si dà, per me c'è, per me c'è. Però se non l'avesse dato non avremmo gridato lo scandalo, ecco diciamo questo. Retteghi sul dischetto, segna l'1-0 meritatissimo secondo me per noi, sto leggendo nei miei appunti. E Glaser finalmente battuto da Retteghi che insomma avevano iniziato questo duello a distanza i due. Poi Retteghi che si fa rivedere con un grandissimo assist per Aspadori che non si capisce cosa fa. Sviene praticamente, sbaglia un rigore in movimento perché praticamente casca per terra come una pera aspettandosi l'intervento del difensore di Israele che non arriva, è furbo per non usare un altro rigore. E appunto spreca un'ottima occasione dell'Aspadori. Neanche l'Aspadori non mi è piaciuto tantissimo oggi. Finisce 1-0, primo tempo appunto di taglia e saree di National League. Inizia il secondo tempo con l'uscita dal campo. Non me ne voglia a lui e neanche a Juventini perché quando c'è da parlarne bene, ne ho parlato bene. In passato ho appunto fagioli, fagioli ed entra un Ricci che secondo me è veramente imprescindibile per questa nazionale. Ricci stasera forse un po' meno ma col Belgio ad esempio è stato devastante. L'ho detto anche in quella partita lì, Ricci veramente è importantissimo per l'Italia adesso. E come reteghi sugli sviluppi di una punizione battuta in mezzo arriva Di Lorenzo che di testa segna 2-0 per noi. Ecco, uno che ho sempre criticato e ho sempre infamato, soprattutto nel recente passato perché per me Di Lorenzo era un buon giocatore fino a un anno fa, è Di Lorenzo. Che oggi invece mi è piaciuto, tra l'altro farà una doppietta adesso ve lo racconto e quindi è giusto quando poi giocano bene parlarne bene. Non è che bisogna sempre parlarne male. Speriamo, la prossima volta parlerò bene di fagioli. Al sessantacinquesimo segna Israele da punizione con Abufani ma con Vicario secondo me ostacolato dal giocatore israeliano. Secondo me era da annullare, questo al 99% te l'annullano normalmente. Sti gol qui gli viene dato, vabbè lasciamo correre. Ripeto qui l'arbitraggio un po' così. Però insomma adesso non ci mettiamo a lamentarci, andatevelo a rivedere. Forse sbaglia anche Vicario qualcosa, però insomma è coperto questo qua, l'ostacola per me insomma. Era da annullare che subiamo appunto ancora una volta gol come nelle ultime otto partite. Se subiamo sempre almeno un gol, purtroppo questa è una cosa da rivedere. Rispondiamo subito da angolo con bastoni ma ancora Glazier protagonista con una grandissima parata. migliore dei suoi probabilmente Glazier fino all'errore che farà dopo, ma per me anche dopo. Cioè a prescindere dall'errore ha salvato veramente il risultato almeno in quattro occasioni. Poi il due interista si sveglia e decide di farsi vedere come sul solito, perché i ragazzi di Marco e Frattesi quando si accendono illuminano al 72esimo, gol e errore in questa occasione del portiere israeliano 3-1 per l'Italia. Frattesi che si rivela veramente il marcatore più prolifico dell'Italia di Spalletti insieme a Retteghi, ma insomma questo Frattesi veramente fa sempre gol quando gioca con l'Italia. Di Marco tra l'altro ha il terzo assist di fila nazionale, anche col belgio di Marco mi era piaciuto veramente tanto. Di Marco quando fa partire il sinistro, insomma, è letale molto spesso. Entrano Maldini, giustamente bisogna segnalare anche l'esordio di Maldini, il giovane Maldini. Per lui in azzurro c'è anche papà Paolo e la mamma in tribuna. Se l'hanno visto male c'è anche il fratello. Entra anche Udoge, escono all'aspadore di Marco. Marco Maldini, tunnel per Udoge, che dà in mezzo e arriva Di Lorenzo, doppietta per lui. 4-1 per l'Italia, 79esimo. Ecco lì, obiettivamente Di Lorenzo ha avuto tutto il tempo che voleva per arrivare, perché vedono la difesa dell'Israele proprio immobile, cioè Udoge dà sto cross, poi la palla è lì, arriva Di Lorenzo da lontano e spara il gol che appunto segna il 4-1 per noi e la doppietta appunto per Di Lorenzo, credo la sua prima doppietta nazionale, sono quasi sicuro. Maldini ha una buona occasione, ma tira fuori, entrati bene sia Udoge che Maldini, tutti e due mi sono piaciuti. Esce Retteghi per Lucca, l'esordio anche lui nazionale, l'eroe di casa, standing ovation appunto della Dacia Arena per Lucca all'ottantatresimo. Anche oggi Matteo ha giocato quasi una partita intera, io obiettivamente speravo giocasse meno, però va bene, va bene, l'importante è che stia bene, entra Buongiorno per frattese l'ottantasesimo e finisce così la partita. 4-1 una partita, ribadisco, contro la nazionale che insomma non è propriamente fortissima, però continuiamo a vedere sparsi di bella Italia. C'è da dire, sto andando a controllare il risultato della Francia perché è importante vedere com'è finito, adesso vi spiego anche perché. Dicevo, c'è da dire, sì, è vero, gli avversari sono quelli che sono, però almeno abbiamo un'Italia che finalmente, che finalmente insomma ci dà soddisfazioni a livello di gioco eccetera, è vero, la Nations League è quello che è, però la Nations League nel suo è importante perché a livello di ranking, a livello di sorteggio per le qualificazioni mondiali, che noi sappiamo non essere propriamente bravissimi nelle qualificazioni mondiali, è importante. Quindi cosa succede? Che con la vittoria della Francia tra l'altro in 10 sul Belgio 2-1, ipotechiamo praticamente il passaggio del turno, perché l'Italia 10 punti, Francia 9, Belgio 4, Israele 0. mancano giustamente tre partite alla fine del, appunto, no, due partite, due partite, due partite, alla fine della Nations League e quindi siamo praticamente passati. Se non sbaglio ci serve un punto, se non sbaglio, per avere la matematica, perché comunque il Belgio dovesse vincere tutte e due e noi perdere tutte e due dopo pari punti, non lo so, poi bisogna vedere anche cosa fa la Francia, è tutto, però diciamo che al 99% siamo passati, ci basta un punto con, appunto, Belgio e Francia, almeno un punto per passare il turno. Quindi non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, mi si suol dire, però buon, buon viatico per un buon sorteggio, perché poi io punterei anche a vincerlo il girone, non solo a prendere quel punticino, in modo tale, appunto, ad avere un buon sorteggio per quello che sarà poi il mondiale, la qualificazione mondiale, ovvio che poi devi fare poi i playoff della Nations League e tutto quanto, vedremo. Fatemi sapere a voi cosa ne pensate nei commenti di questo match, di questa partita, di chi vi è piaciuto di più, chi vi è piaciuto di meno, come sempre vi chiedo l'MVP e il scarso MMPT, PPPP, scarso giocatore della partita, MMP, dai, SSPT, non lo so, dai, non so anche come si dice lo scarso. Ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale, attivatevi al campionale, mettevi un piacere, commentate e, 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 state sintonizzati perché arrivano i video soliti, perché finalmente torna il campionato, arriveranno i pronostici, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, andate a vedere anche il post partita di Italia-Belgio e se vi va a giocare con me al gioco dei pronostici di Nations League perché fate ancora in tempo giocare le partite di domani e dopo domani. Ciao ragazzi, alla prossima!